Pronto! Professor Oak! Mi sente? Oh, oh, oh! Willow! Quale Pokémon mi invii oggi? Si tratta forse di Pikachu? Gliel'ho già inviato l'altro giorno! Eevee? Allora... Gliel'ho già inviato l'altro giorno! Un momento... Ora che mi ci fai pensare, mi pare di averlo visto in un libro antico! Si tratta... del Pokémon misterioso Meltan! Me-el-ta? Meltan! Me-el-ta? MELTAN! Dice sul serio? Eh... no! La 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 la, it's not the fuckin' Digo Double G! Snoop Dogg! Chissà che tipo di Pokémon è questo Meltan? Non ne ho idea... Ma non vedo l'ora di scoprarlo! ... Waiti... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.